I raggi del sole scendono attraverso la cupola del Brunelleschi e formano un'immagine del disco solare che va a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento della Basilica. Anche quest'anno sarà possibile assistere all'emozionante passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze che con i suoi 90 metri di altezza è il più grande al mondo, uno spettacolo unico. Il fenomeno sarà visibile al pubblico nei giorni 11, 14, 18 e 21 giugno dalle 12.30 alle 13.30 nella cappella della Croce del Duomo a sinistra dell'altare maggiore. L'iniziativa, resa possibile dall'Opera di Santa Maria del Fiore e al Comitato per la Divulgazione dell'Astronomia è a ingresso gratuito e si svolgerà anche in caso di cielo coperto. Nella data del 18 giugno la presentazione sarà in inglese. È consigliata la prenotazione scrivendo a eventi-operadelduomo.firenze.it È dal XV secolo che questo fenomeno si ripete nel Duomo di Firenze grazie a uno strumento astronomico il più antico e diffuso al mondo, l'ognomone, progettato per misurare la posizione del sole in cielo e determinare la durata dell'anno solare. Fu il matematico fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli, considerato dai contemporanei la massima autorità in fatto di matematica e per questo definito novello tolomeo, a voler realizzare un ognomone nella cattedrale di Firenze. Entrato in funzione probabilmente nel 1475, fu utilizzato regolarmente fino agli inizi del 1500, quando per la preoccupazione di eventuali cedimenti della cupola del Brunelleschi inizierà a essere impiegato impropriamente per monitorarne la stabilità. Tre secoli dopo, nel 1754, sarà un grande personaggio del tempo, matematico alla corte granducale, il gesuita Leonardo Ximenes, a riportare l'ognomone alla sua funzione originale. Nella cattedrale di Firenze, il foro gnomonico è stato realizzato con una tavoletta di bronzo, la bronzina, con una apertura centrale di 4 cm di diametro e posta orizzontalmente all'interno della finestra meridionale del tamburo della cupola, a 90 metri di altezza dal pavimento.